Aspettate qualche secondo e vedrete questo macchinario all'opera. Facciamo però un po' di chiarezza. Con una calamita tradizionale questa operazione non sarebbe possibile perché bisognerebbe poi staccare uno ad uno i vari pezzi. Ecco perché si utilizza un elettromagnete che è costituito da una bobina di filo di rame avvolta attorno ad un nucleo di materiale magnetico come ad esempio potrebbe essere il ferro dolce e quando la corrente elettrica scorre attraverso la bobina di filo crea un campo magnetico intorno ad essa. L'intensità di questo campo magnetico prodotto dall'elettromagnete dipende ovviamente dalla quantità di corrente che scorre attraverso la bobina e dal numero di avvolgimenti della bobina stessa. Maggiore sarà la quantità di corrente e il numero di avvolgimenti maggiore sarà la forza magnetica generata. Visto quante cose imparate a seguirci?